Pordenone si prepara ad un grande evento musicale e popolare. Sabato 5 ottobre circa 800 musicisti di 26 bande regionali riempiranno di musica il centro città. A organizzare l'iniziativa è Ambima FWG, l'associazione nazionale bande, con il supporto del comune. È una grande manifestazione, un bellissimo evento per cui noi siamo grati agli organizzatori. Tra l'altro questo significa anche riscoprire non solamente quella che qualcuno chiama la musica forte, come la musica classica, ma anche la tradizione, la storia che anima spesso i nostri paesi e la nostra città. Ricordiamo che la filarmonica di Pordenone è il sodalizio più antico di tutta quanta Pordenone. È un'occasione quindi per potersi divertire e apprezzare questa parte di storia musicale. Allora, Lucchini, come si articolerà questa grande manifestazione? Diciamo che la manifestazione si comporrà di due momenti. Il primo, a partire dalle 15.30, vedrà le bande sfilare per il centro storico lungo 5 itinerari che a Stella raggiungeranno e confluiranno in piazza 20 settembre. A partire dalle 17, poi, una volta che le bande e gli 800 musicisti si raduneranno in piazza, daremo il via alla seconda parte con il concertone finale che vedrà 5 brani in programma eseguiti da tutte le bande presenti e diretti dai direttori delle nostre quattro province. È la prima volta che Pordenone ospita la rassegna bandistica regionale, giunta alla quarantesima edizione. Un giusto riconoscimento per una città dalla grande tradizione musicale. Perché Pordenone è una bella realtà bandistica. Ci sono ben 20 bande iscritte alla nostra associazione che sono tutte quelle che sono in attività. Voglio dire di più, tra queste bande ce ne sono otto che sono state costituite nel 1800 e sono ancora in attività, per cui è una realtà importante. La banda è sempre un momento di incontro, di cultura, naturalmente, di amicizia e di volontariato.